Noi abbiamo fatto una discussione circa i problemi economici e sociali, soprattutto le prospettive non floride per quanto riguarda l'occupazione, cosa si può fare per ridare un po' di denaro in tasca ai cittadini perché la gran parte della crisi economica dipende dalla caduta dei consumi in Italia, quindi abbiamo proposto di creare una sorta di automatismo che faccia in modo che tutti i denari che vengono recuperati dall'evasione fiscale si traducano in riduzione di tasse sul lavoro. Abbiamo affrontato i temi della politica industriale e delle singole crisi che purtroppo sono tante, a cominciare da quella dell'Ilva, è stato quindi uno scambio sia riguardando il presente sia guardando ovviamente il futuro sulla necessità di fare in modo che in Italia ma anche in Europa si ricrei una cultura della politica economica per la crescita che francamente manca e cui le conseguenze noi stiamo pagando. Questo era ovviamente l'argomento per noi più importante, poi abbiamo parlato, noi abbiamo chiesto che tra i programmi del Partito Democratico ci sia anche quello di un riordino del sistema istituzionale della politica perché secondo la nostra opinione il sistema politico è in profonda crisi e soprattutto determinato dalla incertezza, dalla impotenza e dalla pletoricità dei luoghi nei quali la politica prende le decisioni che è già un problema in sé, poi aumenta la probabilità che la politica faccia degli errori e quando va bene, quando va male commetta qualche reato.